ah, ricominciamo ce ne ha fatto un altro adesso andiamo all'altro scout un po'? prego, prego grazie sono dentro questo qua non so se c'è qualcosa c'è qui ma... ecco ci sono laggiù non c'è nulla di quelle robe lì perché hanno ridotto tutto vedi qua non c'è non c'è assolutamente niente tra questi nulla ma c'è io non ho niente prego, grazie non la trovate perché cercavi? no, cercavo una scufetta ma non la trovo grazie, arrivederci ecco qua stiamo di nuovo fuori qua c'è quello che regola il traffico grazie grazie